Oggi vi insegno a fare il formaggio su Minecraft, dov'è Gwendalina? Gwendalina mi serve il latte, vieni qui! Bellona! Mmmmm! E poi lo mettiamo a cuocere, guarda come viene! Chi l'avrebbe mai detto che si poteva cuocere il latte? Eeeh, forma di formaggio fresca! Però, giustamente, non sappiamo, il formaggio deve essere stagionato! Eccolo lì! Formaggio formaggioso! Con questo qui, noi possiamo fare, in una crafting table, che non ho la crafting table, beh, questo è magia davvero! Come mai è possibile questo, che non ho la crafting table? Però posso farlo qui! Buono formaggio! Er formaggio! E non solo! Posso anche fare er pane col formaggio? Penso di poter... E non lo so fare! E beh, qualcosa che rompo c'è sempre però, eh! Mannaggia il formaggio! Ah, così! Pane col formaggio! Oh!